Elena Laferla, buonasera! Ciao Elisabetta! Siamo qui al Festival Shortini? Sì! Agli Sgoccioli, tu quest'anno fai parte della giuria? Sì, quest'anno ho avuto l'onore di partecipare alla giuria, siamo in quattro e quest'anno insomma ci sono tantissimi bellissimi cortometraggi, grandissima qualità, su tutti i livelli, su tutte e quattro le sezioni e quindi un bel vedere! Io per un attimo voglio mettermi dalla parte dello spettatore, sono curiosa! Cosa vedremo questa sera? Da questa sera vedremo, e tutte le sere vedremo, un po' tutti i cortometraggi che ci sono in concorso e voglio ricordare che oltre ai film in concorso e alle quattro sessioni internazionali, nazionali, neorealismo e videoclip, ci sono anche delle proiezioni in giro per i viali della villa, qui siamo all'interno della villa comunale di Agusta che ha ripreso vita finalmente stasera e quindi in giro vediamo dietro cespugli, alberi eccetera, sui viali vedremo anche oltre alle mostre varie di arte eccetera, ci saranno delle proiezioni assolutamente fuori concorso, ci sono dei documentari anche di anni fa però bellissimi, interessantissimi, quindi c'è veramente spazio per tante cose. Avremo più spazio per l'umor, per la parte drammatica? Sì, c'è molto spazio devo dire per l'umor e per l'ironia, probabilmente anche la nostra situazione diciamo contingente italiana, economica, sociale ha dato vita a molto umorismo e autoironia anche su situazioni apparentemente drammatiche poi alla fine invece c'è tantissima autoironia. Bene, allora buon divertimento e buon'avventura. Grazie, grazie e spero insomma che verrete tutti a vedere questo bellissimo festival. Ciao! Ciao!